Il grande evento voluto e organizzato dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio è stato un lungo momento di appassionato coinvolgimento con i suoi cento eventi, musei e palazzi storici, vivi anche di notte, stand e strade illuminati di sapere. La ricerca è scesa in strada e ha incontrato i cittadini piccoli e grandi, hanno voluto conoscere, chiedere, capire, vivendo un'esperienza straordinaria. Migliaia di passi curiosi hanno fatto vibrare la città fin nelle sue millenaria fondamenta. In base a Dico Sorrisi Curiosi, Chieti è stato lo scenario incomparabile della Notte Europea dei Ricercatori 2018. La scienza è in città, la missione era questa, missione compiuta con grande successo. Ogni anno partecipo alla Notte dei Ricercatori, sono un professore universitario da più di 15 anni in diversi atenei italiani, ma una sera della ricerca, una notte della ricerca e dei ricercatori così condivisa dalla città non l'avevo mai vista. Veramente una fiumana di gente che non si aggira in maniera casuale, ma partecipa agli esperimenti, ai giochi, ai colloqui, agli eventi e quindi fa ben sperare per il futuro perché è piena di giovanissimi che probabilmente avranno in parte, almeno la voglia poi un giorno di iscriversi. Grazie a tutti.